Pantozzi, a causa di una terrificante stretta fiscale, era precipitato nella miseria più completa. Un penny? Mi dia un penny per pietà? Sono povero! Sono povero! Chi è? Ma che... che succede? Sono Robin Hood. Rubo ai ricchi per dare ai poveri. Grazie! Fino! Soldi! Guardate qui! Guardate qui! Guardate che meraviglia! È finita la miseria! Siamo ricchi! Siamo ricchi! Siamo ricchi! Che... che fa? Sono Robin Hood. Rubo ai ricchi per dare ai poveri. Ne ho anche venti minuti!